Se ne parla tanto, un po' dappertutto. Il bio è una scelta di retroguardia o al contrario, come accade in altri paesi, una scelta di avanguardia per l'agricoltura e per l'economia? Ne discuteremo quindi anche noi questa sera a Benecomune, subito dopo la sigla. A tra pochissimo. La lala la lala la lala La lala la la lala La lala la lala la lala Buonasera e bentornati al Benecomune. Questa sera discuteremo di un tema apparentemente un po' anomalo rispetto alla tradizione di politica, economia e attualità del bene comune, ma che abbiamo scelto perché se ne discute tantissimo, entra direttamente nelle case degli italiani e può essere un aspetto importante su cui rifondare, come in parte già è avvenuto, un settore tradizionale e fondamentale della nostra economia, quale quello agricolo, ovvero il bio. L'agricoltura biologica, la possibilità di integrazione con l'agricoltura più tradizionale, in un settore che per l'appunto in altri paesi sta crescendo tantissimo e anche nel nostro paese diventa sempre più significativo in termini percentuali. Ne discutiamo con il professor Marco Trevisan, presidente della Società Italiana di Chimica Agraria e professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Buonasera professore. Ne parliamo con Ettore Brandini, presidente della Coldiretti Lombardia. Buonasera Prandini, con il De Brando Bonaccini, direttore della Libera Associazione Agricoltori di Cremona, affiliata con Fagricoltura. Buonasera Bonaccini. Buonasera lei. E quarto ospite in collegamento con noi, Costantino Vaia, direttore generale del Consorzio Casalasco del Pomodoro. Buonasera Vaia. Buonasera. E visto che siamo prodighi, giustamente, di applausi, un applauso anche perché era da tanto tempo che noi lo facevamo, al nostro Alessandro Rossi e lo Spazio Agenzie. Buonasera Massimiliano. Non era necessario, ma ti ringrazio. Un benvenuto ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Innanzitutto ricordiamo il nostro indirizzo mail, ilbenecomune-studio1.it. Se avete delle domande, delle curiosità da sottoporre alla nostra redazione, scriveteci perché noi del Bene Comune siamo davvero curiosi di sapere come la pensate e anche perché attraverso le vostre segnalazioni può prendere spunto, può prendere forma una delle nostre puntate. Dunque scriveteci, noi vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Grazie ad Alessandro. Un milione di ettari di coltivazioni del biologico, che è una cifra molto significativa, seconda solo a quella della Germania. Ancora una volta il confronto tra Italia e Germania rientra tra gli argomenti del benecomune. L'abbiamo visto tante volte in occasione della manifattura, dell'industria, dell'economia e non poteva essere che così anche in occasione dell'agricoltura. E tassi di crescita, crescita finalmente davvero sostenuti, più del 10% all'anno di nuove coltivazioni del biologico. Ma vediamo nell'inchiesta curata per noi da Dario Murri una prima panoramica per entrare davvero nel tema dell'agricoltura bio. L'inchiesta curata da Dario Murri. Con più di un milione di ettari di coltivazioni dedicate, l'Italia è uno dei paesi europei che più investe nell'agricoltura biologica. Il nostro paese conta più produttori biologici di qualunque altro in Europa, quasi 40.000, 38.679 per la precisione, con un'estensione di coltivazioni seconda solo alla Spagna e il maggior numero di clienti dopo la Germania. Un mercato, quello del cibo biologico, in rapida crescita. Nel 2011 solo in Italia il consumo di prodotti organici è aumentato dell'11% rispetto al 2010. Ma quali sono le differenze, se ci sono, fra i cibi biologici e quelli tradizionali? I prodotti tradizionali rispetto ai biologici non hanno niente di meno, assolutamente. Quindi le carni tradizionali hanno la stessa composizione in macro e micronutrienti di quelle d'allevamento biologico, così come frutta e verdura biologica ha la stessa composizione della frutta e verdura allevati tradizionalmente. Questo riguarda anche i cereali che nella nostra dieta sono molto diffusi ed è quali spesso si parla per la presenza di particolari contaminanti. Ma bisogna sottolineare che i livelli di questi composti presenti nei prodotti tradizionali non mettono a rischio la salute umana in nessun senso, ecco, e per nessuna categoria di persone, neanche per i bambini, gli anziani o le donne in gravidanza. L'unica differenza appunto è l'assenza di pesticidi e antibiotici, ma la composizione di nutrienti è assolutamente uguale. Non vi sono evidenze che sia diversa. Se a fare la differenza potrebbero allora essere gusto e aspetto, a determinarne sicuramente una è il prezzo, che per i prodotti biologici si attesta in media attorno al 20% in più rispetto a quelli tradizionali. Il prodotto biologico è un prodotto che ha un maggior costo, ma soprattutto di produzione. Il prodotto agricolo che viene coltivato col sistema biologico ha bisogno di molte più cure rispetto a un prodotto che viene coltivato in maniera tradizionale. Il prodotto biologico deve fare a meno di concimi chimici, deve fare a meno di prodotti diservanti, deve fare a meno di tanti trattamenti che ormai nella nostra agricoltura sono comunque dati per scontati in realtà. Di conseguenza la trasformazione, la distribuzione, vi dicendo, porta a essere comunque un delta di prezzo molto diverso rispetto a un prodotto convenzionale. Anche se in crescita, il biologico occupa in Italia una fetta del mercato ancora piccola, un fenomeno che molti esperti hanno definito di nicchia, per lo più concentrato al centro-nord e nei canali di vendita specializzata. Ma i dati rilevati nell'ultimo triennio mostrano trend dei consumi in continua crescita, che a partire dal 2009 hanno spinto anche la grande distribuzione organizzata a credere in questo segmento. Per noi è stato quasi una cosa naturale orientarci sul biologico, perché Coop tra le sue missioni ha sicuramente quella, essendo una cooperativa di consumatori, ha quella della tutela e difesa della salute e del potere d'acquisto dei consumatori. Sicuramente oggi, proprio per i problemi che viviamo dal punto di vista dell'inquinamento, dal punto di vista dei timori rispetto alla salute che i consumatori hanno, il biologico ha una PIL e una crescita sicuramente interessanti. E lo giustificano anche il numero di referenze, ripeto, di prodotti che noi a nostro marchio distribuiamo, garantiti da questo marchio Vivi Verde Coop, che sono oltre 400. Ma chi sono coloro che scelgono i prodotti biologici e perché? Abbiamo una clientela che crede nel biologico, oppure ha bisogno del biologico per diverse situazioni, che possono essere anche delle patologie in realtà. Possono essere problemi legati al glutine, quindi i ciliaci piuttosto che i diabetici, piuttosto che le allergie legate ai prodotti, quindi prodotti senza lievito, prodotti senza vari componenti che possono creare allergie. Quindi all'interno del biologico si può trovare molta varietà di questi prodotti. Io scelgo il pomodoro biologico perché io scelgo un prodotto che è passato attraverso l'ambiente senza contaminarlo, perché non è contaminato da nessun residuo e perché magari si potrebbe ragionare in termini di contenuto d'acqua invece, invece che di qualità delle vitamine, perché quelli è chiari che sono sempre le stesse. Però fiato alle trombe quando escono queste ricerche qua, perché è un modo per indebolire un sistema che invece sta diventando molto importante nella vita dei cittadini. I pareri sono diversi e discordanti. C'è chi dice che si tratti semplicemente di una trovata pubblicitaria, chi dice che i prodotti biologici siano più sani perché contengono più vitamine, chi contesta l'elevato prezzo del biologico e ancora chi dice che a supportarlo sono salutisti fanatici e chi invece afferma con convinzione che la scelta biologica sia una scelta più etica. Come fare allora ad orientarsi? In assenza di ulteriori informazioni, è chiaro che se devo scegliere tra biologico e non biologico, scelgo biologico. Però invece le ulteriori informazioni bisogna procurarsele e bisogna capire che produrre cibo è un fatto complesso e complessivo, così come mangiarlo. E quindi semplificare con il corrandello non funziona quasi mai. Bisogna però fare attenzione perché c'è biologico e biologico. Se infatti il mercato cresce, aumenta anche il rischio di frodi o di calo della qualità. Quando si scoprono problemi è chiaro che si aprono dei casi, giustamente, ma questo non vuol dire che allora non c'è più da fidarsi perché il sistema del biologico, specialmente in Italia, è un sistema controllatissimo e sicuro. La certificazione è fondamentale. Il prodotto deve essere certificato, quindi tracciabile. L'unico problema che può esistere, ma questo è compensato dalla certificazione che ogni negozio ha, è per quanto riguarda il prodotto sfuso. Il prodotto sfuso che può essere l'ortofrutta, che nessuno può garantire che è un prodotto biologico, come può essere anche altri prodotti che vengono mediti sfusi. Lì, questo è un obbligo di legge, ogni negozio è tenuto ad avere una certificazione di rintracciabilità di filiera. Noi applichiamo un criterio fondamentale, la garanzia principale data dal nostro marchio, perché sui prodotti a marchio Coop seguiamo la filiera produttiva di tutti i prodotti a nostro marchio. Quindi garantiamo dal momento, dalla nascita del prodotto fino alla sua commercializzazione, che tutta la filiera è controllata. Attualmente i produttori onesti, che sono, va detto la stragrande maggioranza, si impegnano a garantire la qualità dei propri prodotti con una serie di certificazioni. Qui però sorge un problema, perché a pagare le prestazioni dei certificatori sono coloro che devono essere certificati. Come superarlo? Questa relazione, questa situazione in cui sostanzialmente i certificatori non stanno lavorando per conto del Ministero della Salute, per dire, ma stanno lavorando, o del Ministero dell'Agricoltura, ma stanno lavorando per i produttori che certificano, è chiaro che introduce un elemento di debolezza molto importante. E soprattutto bisogna capire con precisione che cosa si sta certificando. Capire con precisione che cosa si sta certificando, diceva la direttrice del Centro Studi di Slow Food. Ritorniamo però sui numeri. E chiedo a Prandini, il Presidente di Coldiretti Lombardia, quali sono per l'appunto le cifre, la dimensione dell'agricoltura biologica in Lombardia e nel nostro paese. Nel nostro paese l'agricoltura biologica rappresenta circa un milione di ettari coltivati, con una superficie media aziendale di circa 30 ettari e sono circa 40 mila i produttori oggi di biologico, con una forte trend in crescita per quanto riguarda non solo i consumi di biologico, ma anche gli operatori che si avvicinano al biologico stesso. Buonaccini, nella provincia di Cremona il biologico sta acquistando spazio, si sta diffondendo oppure rimaniamo più tradizionali da questo punto di vista? La provincia di Cremona è caratterizzata da un'agricoltura abbastanza tradizionale che produce soprattutto commodities, produce latte, produce formaggio, produce cereali, quindi questo è un po' il core business. Peraltro ci sono delle realtà significative, mi riferisco in particolare a una cooperativa che da anni si è lanciata su questo mercato del biologico e mi risulta anche con buone soddisfazioni, con buoni risultati anche sui mercati esteri. Stessa domanda per Vaia che è in collegamento, chiedendogli dalla sua posizione di direttore generale del consorzio Casalasco per l'appunto del pomodoro. Da un lato quanto delle persone che si riuniscono nel suo consorzio fanno biologico e se è un pomodoro bio è meglio di un pomodoro coltivato con l'agricoltura tradizionale? Diciamo che in termini di differenze io direi che oggi, ad esempio, tutta la nostra produzione, quindi quella dei nostri associati, è una produzione che viene fatta seguendo dei metodi di coltivazione molto rigorosi che fanno riferimento ai disciplinari di produzione e che quindi riducono drasticamente quello che è l'utilizzo di principi attivi. Nel settore del pomodoro il biologico ha ancora così uno sviluppo contenuto da un punto di vista industriale, ci sono delle strutture che sono dedicate a quella che è la trasformazione ma direi che siamo ancora in una fase di nicchia rispetto a quella che è la cultura del pomodoro in Italia che è una cultura molto diffusa. Ricordo che l'Italia è il terzo produttore mondiale. Numeri molto importanti, del resto a lungo e non scorrettamente siamo stati considerati il paese del sole e quindi necessariamente anche una grande potenza produttrice per l'appunto di questo tipo di ortaggio, di questo tipo di prodotto. Domando a Trevisan, ma da punto di vista dell'utilizzo dei pesticidi e dei principi attivi, naturalmente l'agricoltura bio è considerata così salutista e così salutare. È proprio così oppure c'è un po' di ideologia in questo? Direi che c'è una via di mezzo nel senso che sicuramente non vengono utilizzati i pesticidi tradizionali, quelli classificati come pesticidi, anche se il rame e lo zolfo che sono considerati utilizzabili nella produzione biologica in realtà sono anche dei pesticidi. In realtà poi per la difesa vengono utilizzate sostanze di origine naturale che hanno dei requisiti di tossicologia migliori rispetto a quelli dei prodotti tradizionali, ma comunque vengono utilizzati dei prodotti per la difesa delle derrate, perché in ogni caso pensare di produrre senza effettuare nessun trattamento è piuttosto utopistico, soprattutto se non vuole produrre in quantità vendibile. Quindi questo è un pochettino l'ideologia che sta dietro al biologico. Vengono utilizzati prodotti di origine naturale e non prodotti di origine sintetica. Dal punto di vista dell'utilizzo per l'appunto di questi principi attivi, noi italiani siamo messi come gli altri paesi europei, li utilizziamo di più, di meno? Diciamo che il mercato dei prodotti biologici intende oppure dei prodotti fitosanitari. Nel caso dei prodotti fitosanitari l'Italia ne utilizza, penso che sia fra i maggiori consumatori di pesticidi. Ovviamente tutto è collegato all'attività agricola, per cui chiaramente Francia e Germania ne utilizzano di più. Noi poi siamo avvantaggiati dal punto di vista del clima, perché soprattutto nel sud Italia certi attacchi fungini non ci sono, per cui il nostro frumento è praticamente biologico naturalmente, senza grossi problemi. La grande differenza secondo me sui cereali è data soprattutto dall'uso dei fertilizzanti più che dall'uso dei pesticidi, perché già per questo il numero di trattamenti è estremamente basso. Direi che un altro aspetto molto importante del biologico è quello che ha imposto un ritorno alle tradizioni agronomiche della rotazione, che molte volte erano state abbandonate e che quindi riducono la possibilità di malattie e quindi un minore utilizzo di prodotti di difesa. Questo è un aspetto molto importante. Però non dobbiamo dimenticarci che la difesa delle derrate alimentari è fondamentale. Senza difesa noi avremmo una perdita di circa il 50% di quello che produciamo, per cui in un modo o nell'altro noi dobbiamo cercare di preservare quello che abbiamo prodotto. Brandini, diceva il professor Trevisan che c'è stato un ritorno in qualche modo alla tradizione. Il bio consente di recuperare delle modalità di coltivazione che erano state abbandonate da un agroindustriale sempre più industriale. È una cosa che ha verificato anche presso i suoi associati? Diciamo che sicuramente è così. Va anche detto che secondo noi una riflessione invece va fatta proprio sulla differenza del fare agricoltura in Italia e del fare agricoltura in Europa e nel resto del mondo. Se noi guardiamo proprio i prodotti fitosanitari che vengono utilizzati, ormai è da decenni che in Italia... Mi permetta, spieghi cosa vuol dire precisamente fitosanitari per il nostro pubblico, perché non tutti sono esperti. Allora parliamo dei diserbi, che così forse... o di prodotti che servono per diminuire quelli che possono essere degli infestanti in campo. Quelli che vengono utilizzati nel nostro paese sono ormai da decenni, non sono cancerogeni per la salute umana. Purtroppo questo non avviene nel resto del mondo. Ci sono parecchi paesi dove questi prodotti vengono ancora utilizzati e dove invece non ci sono regole certe per quanto riguarda poi l'importazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Si intende all'interno dell'Unione Europea o a paesi extra-way? No, no, parlo per quanto riguarda la commercializzazione di questi prodotti anche all'interno della Comunità Economica Europea. Per quanto riguarda l'utilizzo di questi prodotti che sono ormai vietati sul nostro territorio all'esterno della Comunità Economica Europea? Già, perché questo è un elemento decisivo. Appunto il bio, ma non solo il bio come stiamo sentendo adesso, cioè il controllo rispetto all'agricoltura, è una questione innanzitutto di salute. Perché si tratta di quello che arriva sulle nostre tavole, di quello che consumiamo. Ma il bio e un certo tipo di agricoltura sono molto importanti anche dal punto di vista della qualità dei prodotti che generano e che coltivano. Lo vedremo subito dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Bentornati. A proposito di riformulazione del nostro linguaggio e di italiano che cambia, all'interno delle puntate del Bene Comune ci siamo abituati a sentire parlare di spread. Ma c'è un'altra espressione completamente diversa che si è imposta alla nostra attenzione collettiva. quella di chilometri zero. Vediamo nella seconda parte dell'inchiesta curata per noi da Dario Murri in cosa consistono i chilometri zero e perché siamo così attenti a far arrivare prodotti di questo genere sulla nostra tavola all'inchiesta. Mangiare a chilometri zero sta diventando una tendenza sempre più diffusa. Anche in Italia, dove accanto alla crescita di una coscienza ambientalista sembra emergere anche il desiderio di trovare la qualità degli alimenti comprandoli vicino casa. nata quasi come una moda, oggi invece l'idea di acquisti a chilometro zero è un affare da 3 miliardi di euro l'anno. Una scelta che ha una sua logica, visto che è stato stimato che un pasto medio percorre più di 1900 chilometri per camion, nave e aereo prima di arrivare sulla nostra tavola con innegabili effetti in termini di consumo energetico e di impatto sull'ambiente. Ma che cosa si intende esattamente per chilometro zero? Il senso dell'idea di chilometro zero è che per una buona parte del cibo che ci serve noi non abbiamo bisogno di fargli fare dei chilometri e quindi non c'è senso nel mantenere in piedi un sistema che invece fa viaggiare le insalate, fa viaggiare l'acqua, fa viaggiare la frutta nelle stagioni sbagliate. Il chilometro zero è molto favorevole, non soltanto perché si riduce l'emissione di sostanze che sono negative per la salute umana, ma anche proprio perché si favorisce l'assunzione di alimenti che sono particolarmente buoni, diciamo. La filiera corta punta alla riduzione dei passaggi che altrimenti intercorrerebbero fra il produttore e il consumatore, determinando anche un netto abbattimento delle spese legate alla distribuzione e al trasporto. Se tu impari a mangiare secondo stagione e capisci che la maggior parte del tuo comportamento alimentare può essere improntato con profitto in tanti campi alla stagionalità e alla località, allora in qualche maniera controbilanci il fatto che evidentemente se vuoi bere del caffè la stagionalità e la località te la devi scordare, se vuoi mangiare del cioccolato uguale, se vuoi mangiare un'ananas anche. Ma se devi mangiare l'insalata belga o se devi mangiare la lattuga o se devi mangiare le mele, hai la possibilità di farlo, come dire, riequilibrando quei pezzi del tuo comportamento quotidiano che necessariamente invece vanno a incidere su altri settori. Non dimentichiamo che una volta si mangiava veramente a chilometro zero, ma si mangiava solo quello che si trovava e non c'era la disponibilità per tutti di tanti alimenti che pure con effetti positivi, con nutrienti molto benefici per la nostra salute, insomma oggi invece abbiamo a disposizione. È vero che i cibi, soprattutto i vegetali di stagione, sono quelli più ricchi di nutrienti, vitamine, minerali, antiossidanti, ma è anche vero che più l'alimentazione è varia, più garantisce una protezione, tra virgolette, dalle malattie cronico-degenerative che sono quelle che noi vogliamo evitare per una popolazione come la nostra che ha una vita sempre più lunga e quindi un rischio di alcune malattie sempre maggiore. Se acquistare generi alimentari a chilometro zero può diventare una scelta più sostenibile per l'ambiente o più economica, sicuramente può contribuire a valorizzare le realtà locali. Se questi passaggi si possono evitare, laddove si possono evitare, chiaramente questo significa rimettere energia in delle economie locali che altrimenti morirebbero, perché questo tipo di rapporto qui può anche far venire in mente a qualche ragazzo di intraprendere questa strada qua. Se la strada che ha davanti è soltanto quello di produrre al minor costo possibile affinché un intermediario acquisti, non ce la fa, perché per produrre al minor costo possibile intanto deve avere una quantità di terra che è molto difficile procurarsi, ma poi perché comunque i ragazzi che si avvicinano all'agricoltura oggi hanno in mente di fare l'agricoltura in un altro modo. Ma come si fa per chi lo volesse a mettere in pratica questo tipo di scelta? Una prima opportunità per nutrirsi degli alimenti prodotti sotto casa potrebbe essere rappresentata dalla vendita diretta produttore-consumatore e dai cosiddetti farmer's market, che possono interessare soprattutto le piccole realtà urbane o le zone rurali. In alternativa ci sono i gruppi di acquisto solidale, i cosiddetti gas, che si stanno diffondendo in particolare nelle grandi città e che effettuano ordini di alimenti e non solo per gruppi di persone, spesso rivolgendosi a coltivatori diretti. Secondo me le istanze sono sempre un po' miste, e quindi non credo che qualcuno assuma questo nuovo modello di acquisto soltanto per risparmiare. E mi auguro anche che non si creino, ma ci sono molti elementi di controllo, perché non si crei che non si creino delle situazioni per cui invece che l'intermediario avessare i produttori, arriva al gruppo di acquisto, perché sennò sarebbe veramente un po' preoccupante. Poi ci sono i mercati della terra, una rete internazionale di mercati, produttori e contadini coerente con la filosofia slow food. Qui si trovano solo prodotti locali e di stagione presentati solo da chi produce quello che vende, ma ci sono anche spazi per i più giovani, per l'educazione del gusto e prezzi equi per chi compra e chi produce, prodotti che rafforzano le economie locali e favoriscono la creazione di un legame più stretto fra chi produce e chi consuma. Questo è molto importante perché poi si creano, come dire, si riconsolida anche un tessuto di relazioni sociali che nei mercati sono possibili, nei supermercati no, nei supermercati si può fare tutta la spesa senza aprire mai bocca e che diventano a loro volta, quindi che fa diventare a loro volta il mercato un produttore di educazione, perché tu puoi chiedere, puoi imparare, puoi lasciare i bambini con quelli che vendono le uova e gli spiegano che le uova non sono uscite dal cartone, sono uscite da un altro posto che magari è meno elegante da nominare, però sono da lì. Il bio è un fenomeno che si iscrive anche nel cambiamento dei nostri stili di consumo, come avete sentito, con tante modalità innovative di fare per l'appunto la spesa alla ricerca sempre di una maggiore autenticità. Bonacini, lei cosa pensa di questa idea del chilometro zero? È molto diffusa tra i suoi associati qua a Cremona, come funziona la cosa? Sicuramente l'idea è interessante, il discorso sarebbe un pochino lungo e per cercare di sintetizzarlo noi pensiamo che possa rappresentare comunque una buona opportunità per una nicchia di produttori e anche per i consumatori. Più che di chilometro zero, come si sentiva nel filmato, io preferirei parlare di stagionalità delle produzioni, nel senso di avvicinare un po' il consumatore a quelli che sono i prodotti legati al territorio, tipici del territorio. In buona sostanza, questo penso che possa sintetizzare le tradizioni del posto, possa sintetizzare una certa naturalità delle produzioni e un legame con la propria terra. E poi questo perché soprattutto rappresenta dei prodotti così un po' particolari, legati, abbiamo visto nel servizio, soprattutto credo che sia legato all'ortofrutta. nella provincia di Cremona, come dicevo, rispondendo alla sua precedente domanda, abbiamo un'agricoltura che produce soprattutto latte, che produce dal latte produce formaggi e produce tutta una serie di cereali e di prodotti che sono funzionali alla produzione di queste ultime. Abbiamo una produzione importante anche di suini e di prodotti derivati dalla salumeria, collegati al circuito del Parma. Quindi è vero che c'è il chilometro zero o la stagionalità dei prodotti, dicevo, legati all'ortofrutta, ma non dimentichiamo che ci sono anche delle produzioni legate al territorio che subiscono dei processi importanti di trasformazione e che comunque sono caratterizzati e tipici di un territorio. Il grano padano, il prosciutto di Parma, sono prodotti nostri, salumi, eccetera, sono tipicamente di quest'area. E chiaramente trovare questi in ambienti, diciamo così, un po' limitati, un po' dove la capacità di trasformazione del produttore non è alta, diventa un po' più complicato. Però sono realtà che ci sono. Noi abbiamo provato e stiamo attivando delle collaborazioni con delle catene commerciali proprio che chiedono e richiedono prodotti legati al territorio, che però vengono venduti nella grande distribuzione, nei supermercati anziché nel mercatino rionale. Però il concetto è sempre quello. Si tratta di vedere che il consumatore deve trovare l'opportunità di andare a individuare e localizzare questo tipo di prodotti. Professor Trevisan dice Bonaccini, stagionalità del prodotto come soluzione che va nella direzione del bio. Ma se io voglio le fragole tutto l'anno sulla mia tavola, quindi devo rinunciare un po' ad una componente biologica? Diciamo che non può fare a meno di rinunciare alla componente biologica nel senso che ci sono produttori di fragole biologici da un'altra parte. Quindi due concetti di chilometro zero e di biologico vanno insieme a braccetto per un certo tratto, ma poi si diversificano. Perché chiaramente io posso avere produzione di fragole in sud Italia, per esempio, che quindi mi dà una stagionalità maggiore o sottoserra che mi permette quindi di avere le fragole per un lungo periodo dell'anno. Però anch'io sono d'accordo che il concetto... Però a quel punto non ho più il chilometro zero? Non sono più il chilometro zero. Chiaro, le due cose non possono andare insieme. Quindi biologico si può avere anche non a chilometro zero, mentre se io voglio la stagionalità ho il chilometro zero. E mi volevo riallacciare anche a quello che diceva prima il dottor Prandini riguardo al discorso delle importazioni. È molto importante consumare prodotti italiani perché il prodotto italiano comunque è sicuramente controllato e di qualità migliore a prescindere dal tipo di coltivazione adottato. Viceversa, i prodotti che vengono dagli altri paesi sia europei ma soprattutto extraeuropei sono poco controllati e spesso possono dare delle sorprese. Per cui io mi sento di consigliare vivamente. Sicuramente il prodotto italiano poi a maggior ragione se il consumatore è educato cercare di seguire la stagionalità è estremamente importante. In questo caso anche noi del Bene Comune ci associamo agli auspici del professor Trevisan per l'agricoltura consumare italiano è da molti punti di vista e non da ultimo quello della salute come sentivamo giusto poc'anzi la soluzione migliore. Buonasera a Giorgia Cipelli che è in mezzo al nostro pubblico come di consiglio. Buonasera, buonasera Massimiliano. In effetti il tema del biologico ci permette questa sera di fare un'incursione anche sul problema dell'inquinamento che ha delle ripercussioni evidentemente sull'agricoltura. A questo proposito c'è la domanda del signor Giuseppe. Buonasera la mia domanda è questa si parla tanto di polveri sottili e siamo tutti contenti quando la pioggia libera l'aria perché respiriamo meglio queste polveri poi con la pioggia vengono assorbite dal terreno che a sua volta le trasmetterà al prodotto. Cosa succede? Grazie per la domanda chiamo in causa Costantino Vaia ha sentito quello che diceva la persona presente nel pubblico cosa succede quindi? Entrano nelle falde dobbiamo temere molto per i prodotti che mangiamo e che arrivano sulle nostre tavole? Senz'altro la questione ambientale è una questione assolutamente importante io ritengo che comunque sia fondamentale fare anche una distinzione parlando di prodotto fresco e prodotto trasformato diciamo che sono due tipologie di prodotto che hanno delle dinamiche diverse in termini di coltivazione e in termini di conservazione Ci spiega precisamente qual è la differenza? La differenza è che comunque ci sono comunque dei controlli che sono differenti prima si parlava di stagionalità è ovvio che un prodotto fresco è legato molto alla stagionalità un prodotto trasformato è ovvio che può essere sulle tavole sempre nell'arco dell'anno quindi l'aspetto ambientale ritengo che sia un aspetto fondamentale quindi il poter fare produzioni in ambienti non contaminati o comunque meno contaminati questo è ovvio che va a favore di quella che è la qualità della materia prima Brandini stessa domanda per lei a proposito di quel problema che evocava la questione ambientale e la persona presente nel nostro pubblico sì ma io aggiungerei alla domanda anche un'altra analisi che spesso e volentieri viene imputata al mondo agricolo quando il mondo agricolo è solo un benefattore per quanto riguarda la società e la comunità che è anche l'utilizzo dell'acqua che è strettamente collegato a quello che si diceva prima spesso e volentieri quando noi utilizziamo l'acqua per l'irrigazione dei terreni si dice che l'agricoltura sottrae acqua al territorio ai cittadini alla produzione energetica in realtà dell'acqua che noi utilizziamo ne restituiamo il 90% ritorna in fada ritorna quindi in un percorso di fiumi ma soprattutto la restituiamo pulita e quindi mi ricollego a quello che si diceva prima ci spieghi meglio perché la restituite pulita? perché semplicemente durante l'utilizzo dell'acqua per quanto riguarda diciamo così l'irrigazione dei terreni quest'acqua ha un filtro nel terreno quando ritorna in fada ritorna ovviamente pulita l'acqua che torna in fada dopo avere diciamo così irrigato il terreno arriva pulita e quindi può essere ancora utilizzata dalla società e dalla comunità anche per quanto riguarda l'uso domestico perfetto molto chiaro so che Giorgia ha un'altra domanda ora restringiamo il campo parliamo di Kamut con la domanda di Marina buonasera io recentemente ho avuto questa informazione che mi ha lasciato un po' basita perché secondo me è un po' una di quelle aberrazioni dei tempi moderni ossia il Kamut questo grano fantastico molto robusto quindi avrebbe anche bisogno di poche cure pochi fertilizzanti miracolosamente sopravvissuto nella tomba di questo faraone è vietata la coltivazione in Italia è vietata perché una multinazionale canadese l'ha brevettato e quindi si può coltivare solo in Canada in Italia si coltiva il grano del faraone ma hanno delle beghe illegali grandissime per poterlo fare è vero tutto ciò è possibile sfuggire a queste cose assurde cosa si fa? questo dei brevetti da parte delle multinazionali è uno dei problemi come dire più intensi e più frequenti della postmodernità come diceva appunto la la signora che ha posto questa domanda Brandini a lei risulta questa cosa? ma bisognerebbe fare un'analisi più approfondita chiaramente nel momento in cui c'è un brevetto da parte di una multinazionale chiaramente questa multinazionale può decidere dove impiegare quella tipologia di semente nulla vieta che però possa essere commercializzata e quindi possa essere acquistata anche da imprese agricole italiane e poi seminate però il problema sta nel brevetto che poi in teoria si allarga o si associa ad altri temi come quelli degli organismi geneticamente modificati ma andremo su discorsi molto più impegnativi molto impegnativi e molto complessi giusto un flash so che Coldiretti conduce alcune battaglie insieme a Slow Food per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e diciamo dei principi naturali nazionali allora da questo punto di vista si potrebbe dire ci sono delle alternative al camut altrettanto efficaci tra i nostri prodotti? Beh sicuramente il grano duro italiano è un grano di grandissima qualità tanto è vero che proprio nei giorni scorsi si è sottoscritto un accordo anche con alcune diciamo così alcuni soggetti della grande distribuzione per la diffusione di una pasta contenente il 100% di grano duro italiano spesso e volentieri noi sentiamo parlare di semola di grano duro e non di farina di grano duro sono due cose completamente diverse e spesso e volentieri sul grano noi siamo invasi da importazioni di grano proveniente da tutto il mondo che poi viene trasformato da ditte italiane venduto e commercializzato come se fosse un prodotto italiano purtroppo lì di italiano c'è ben poco quindi far chiarezza sotto questo punto di vista con l'obbligo dell'origine sui prodotti ci permette a noi come mondo agricolo di poter continuare a crescere di salvaguardare l'ambiente al territorio e nello stesso tempo si fa un'azione di chiarezza nei confronti dei consumatori che ovviamente sono liberi di poter valutare la qualità dei nostri prodotti agroalimentari rispetto a ciò che andiamo ad importare ma avendo la certezza di cosa si sta consumando ci tolga una curiosità è altrettanto digeribile del camut il grano d'oritaliano? penso che alcune varietà sicuramente siano altrettanto digeribili sotto questo punto di vista secondo me subentrano anche un po' delle mode quindi oggi c'è la spinta per quanto riguarda la pasta che è fatta col camut secondo me se andiamo a vedere o facciamo delle analisi per quanto riguarda alcune tipologie di grano italiano hanno la stessa digeribilità al bene comune siamo necessariamente e naturalmente molto attenti alla dimensione economica e allora nel bio c'è anche la possibilità di conquistare di espugnare effetti di mercato lo vediamo subito dopo la pausa pubblicitaria tra pochissimo non ci lasciate ben tornati l'agricoltura bio l'abbiamo detto è un ritorno alla tradizione ma anche per citare un famosissimo film di Bob Zemeckis è una sorta di ritorno al futuro un ritorno al futuro che consente di aprire nuovi spazi di economia come raccontano una serie di dati e soprattutto tante storie di successo una delle quali è stata raccolta per noi da Dario Murri nella terza parte dell'inchiesta l'inchiesta siamo proprio sicuri che provare a fare agricoltura in modo differente oggi significhi per forza tornare a un passato oggettivamente improponibile no se si è capaci di pensare in modo nuovo a Stagno Lombardo nel Cremonese c'è un'azienda agricola che offre molti spunti di riflessione la storia di Cascina Lago Scuro comincia nel 1990 quando Fabio Grasselli e la moglie Paola decidono di far risorgere una vecchia imponente struttura a corte tipica della Valle del Po e di dare vita a una piccola azienda agricola utilizzando metodi di agricoltura biologica a loro si aggiunge successivamente uno dei figli Luca che dopo una laurea in filosofia decide di affiancare i genitori in questo progetto secondo me in un certo senso c'entra filosofia ti dà una struttura di pensiero per poi anche agire in un certo modo e oltretutto ho fatto un master in scienze gastronomiche all'università di Pollenzo che mi ha fatto conoscere altri produttori altre aziende perché la cosa importante è anche fare rete e tu vedendo gli altri come si comportano puoi prendere le cose positive capire le cose negative e l'idea è proprio di avere non solo una visione locale ma che sia anche globale insomma capire quello che si fa ma anche relazionarlo alle altre realtà ed è proprio Luca che prosegue con passione il racconto di questa avventura nel 1993 aveva la certificazione biologica e piano piano con gli anni nel 1998 a trasformare a fare i nostri formaggi il latte che utilizziamo è solo il nostro latte e cerchiamo di vendere tutto il nostro prodotto direttamente sempre nel 1998 la vecchia sala di mungitura diventa un mini caseificio qui il latte intero e crudo dei loro capi viene trasformato in formaggi freschi e stagionati ricercando e sperimentando la possibilità di ottenere nuovi prodotti sempre attraverso una lavorazione che rispetta del tutto i metodi biologici adesso sono in mungitura 21 più tra le le manze e i vitelli in totale sono 50 capi e un toro infatti stiamo cercando di reintrodurre un'antica razza che c'era qua che è la bianca valpadana infatti il toro è di bianca valpadana e lo stiamo reintroducendo piano piano qua era l'antica razza che c'era che faceva lavoro nei campi faceva il latte era buona per la carne ai primi posti nell'organizzazione dell'azienda c'è il benessere degli animali per questo motivo nella rotazione delle colture sono stati inseriti pascoli seminati a graminacee leguminose essenze aromatiche e fiori dove dalla primavera all'autunno le vacche in mungitura sono libere questo qua è un fieno l'erba medica noi cerchiamo arriviamo all'80% di produzione del mangime diciamo per le vacche del fieno principalmente si alimentano a fieno non facciamo insilati non coltiviamo il mais e quindi principalmente sono fieno più qualche cereale perché data la mungitura la vacca ha bisogno di un po' di energia e grazie a queste scelte che i formaggi dell'azienda Lago Scuro fanno parte dell'Anfosc un'associazione nazionale che ha il fine di tutelare e valorizzare i formaggi prodotti esclusivamente con il latte di animali al pascolo l'azienda di Luca e dei suoi genitori è collegata al circuito Slow Food e oltre a vendere i propri prodotti sul posto e in un piccolo punto vendita di Cremona partecipa ai mercati della zona e ai mercati della terra qualcuno ci chiede di poter rivendere i nostri prodotti pochi lo fanno perché noi lo vogliamo vendere direttamente perché riesce a garantire un prezzo che sia valido per te e per chi lo compra e oltretutto queste realtà secondo me danno un'esternalità positive per la comunità che è intorno a te perché produci un cibo e lo vendi lì e vendendolo lì la gente può insomma può aiutarti e può anche gustarne il prodotto che prende insomma un'altra cosa del biologico ma in generale che il consumatore deve capire che il prodotto è diverso con le stagioni cioè non solo ci sono le stagioni ci sono diverse verdure ma anche il prodotto stesso lo stesso prodotto la stessa mozzarella non è la stessa d'estate e d'inverno sono i climi diversi i ritmi diversi e il prodotto il risultato è diverso ogni volta il latte è diverso quando iniziano ad andare al pascolo a insomma a marzo il latte è molto più giallo è molto più ricco mentre d'inverno mangiando un po' più secco il fieno è un po' più grasso su certi altri aspetti la cascina con le sue belle strutture la chiesa il torrione il laghetto si sta rianimando con un progetto di lungo periodo alcuni spazi sono stati anche adibiti a bed and breakfast oltre a questo si è pensato di realizzare anche un micronido gestito dalla compagna di Luca Federica laureata in scienze dell'educazione qui i bambini delle famiglie del circondario ogni giorno mangiano i prodotti dell'azienda vanno a mungere guardano come si fa il pane giocano davanti a una grande vetrata da cui vedono le mucche al pascolo l'idea appunto di far vivere questa quotidianità ai bambini chiaramente d'inverno sono più dentro la struttura però d'estate vivono fuori nell'orto vedono il lavoro quotidiano nelle vacche non è delle vacche non è solo una fattoria didattica ma è proprio una quotidianità questo è il pane che facciamo noi quando è possibile utilizzare le nostre farine altrimenti prendiamo farine biologiche è il pane di pasta madre quindi non contiene lievito ma è una diciamo lievito madre fatto con acqua e farina che si a cui va tra virgolette dato da mangiare ogni due giorni a Lago Scuro vive anche il fratello di Luca chirurgo con la moglie un'altra famiglia affitta una porzione di cascina e poi c'è un ragazzo francese che si cura dell'orto anche per la loro abitazione Luca e la sua famiglia hanno scelto di seguire i principi della sostenibilità la casa segue diciamo i requisiti della bioarchitettura nel senso che minimo utilizzo di cemento i muri interni sono in argilla il riscaldamento è a parete quindi devi scaldare a più basse temperature c'è il pannello solare c'è il recupero dell'acqua piovana con una cisterna per i sanitari soprattutto e per l'orto e insomma l'idea è quella di avere la testa anche quando si fanno non solo agricoltura ma anche edilizia oltre a quello della produzione l'idea che sta alla base di cascina Lago Scuro è ricreare una comunità nel nome di un'agricoltura sana e nuove possibilità per i giovani che si possono sentire realizzati fare progetti offrire anche un servizio sociale come del resto era un tempo nelle cascine ma tutto questo in modo nuovo Il biologico deve avere anche secondo me dei tagli culturali e sociali nel senso che devi fare agricoltura biologica ma il biologico deve essere collegato con la vendita diretta deve essere collegato con il benessere che c'è cioè il benessere della tua comunità non puoi fare solo un biologico in un certo modo insomma E dire che c'è chi sostiene ancora che la filosofia non dà pane ma come avete visto sicuramente latte di grande qualità lo produce e l'immagine che abbiamo visto la storia che ci ha raccontato Dario Murri è quella di un agricoltore e di un elevatore davvero moderno quasi postmoderno non a caso utilizzava termini come esternalità una cosa che dovrebbe cambiare completamente l'immagine tradizionale che abbiamo di questo mestiere di questa attività Boracini lei conosceva l'esperienza di Cascina Lago Scuro Sì conosco personalmente il papà del ragazzo che è stato intervistato l'avevo perso un po' di vista negli ultimi anni ma ho visto che hanno progredito sono andati avanti nella loro nella loro esperienza che è sicuramente molto molto bella interessante è fatta con passione è fatta anche con filosofia come giustamente sottolineava lei questo però mi dà mi dà anche l'occasione se posso di puntualizzare qualche aspetto collaterale quindi posto e assodato tutte le cose che abbiamo detto prima cioè quindi che si tratta di una fetta di mercato importante sia per i produttori che per i consumatori volevo dare qualche numero anch'io per far riflettere benissimo noi amiamo i numeri non darli in questo caso no 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 volevo fornire fornire non dare fornire qualche numero diciamo così prendiamo l'esempio della produzione di latte la provincia di Cremona che conosco bene da questo punto di vista produce 11 milioni di quintali di latte l'anno che rappresenta all'incirca il 10% del prodotto nazionale sono circa in Lombardia e abbiamo circa il 40% del latte prodotto a livello nazionale quindi sono numeri importanti sempre in provincia di Cremona abbiamo poco meno di mille allevatori che producono latte sono circa 150 mila ettari di superficie agricola quindi questi numeri li dico per dare la dimensione dell'economia che gira intorno all'agricoltura cremonese è chiaro che l'esempio che abbiamo visto è un esempio molto virtuoso molto proiettato diciamo così a cavallo tra passato e futuro con fortissimi legami sul territorio però penso che non sia applicabile e replicabile dalla maggior parte dei produttori che ho citato proprio perché si trovano a vivere a lavorare e produrre in condizioni che sono molto molto diverse quindi devono combattere costantemente con quelli che sono diciamo così le pressioni del mercato costi di produzione che sono in costante aumento prezzi di cessione del prodotto all'industria che sono sempre tiratissimi e in questi giorni stiamo proprio vivendo aspetti particolarmente difficili da questo punto di vista per cui si tratta di verificare e di confrontare un po' gli aspetti che riguardano ripeto i benefici del prodotto biologico visto come prodotto di nicchio come prodotto anche culturale oserei dire nei confronti del prodotto di non dico di massa nel senso di volere dequalificare il prodotto ma della produzione dell'agricoltura tradizionale chiamiamola così parimenti legati al territorio e che comunque deve fare i conti con un'economia generalizzata in cui si muove e l'agricoltore medio deve fare i conti con questa realtà e questa realtà spesso è spietata non consente di fare delle delle attività particolarmente diciamo così di nicchia diciamo ecco quindi le cose che soppreserei sono queste sostanzialmente quindi non tutti ci dice Bonacini con un parere molto informato possono aggredire ed entrare in quei mercati di nicchia che costituiscono il bacino naturale dell'agricoltura biologica ricordiamo che ieri era la giornata si è celebrata in 175 paesi di tutto il mondo la giornata mondiale della terra che ci ricorda la finitezza e la limitatezza a cui sono soggette le risorse naturali di cui ci avvaliamo allora da questo punto di vista professor Trevisan ci si potrebbe porre anche la domanda sulla sostenibilità di questa agricoltura biologica è davvero sostenibile per tutti allora il concetto è abbastanza interessante infatti l'esempio che abbiamo appena visto è sicuramente un esempio virtuoso di un approccio sostenibile nel senso che sono tenuti in considerazione la sostenibilità si fonda su tre pilastri che sono l'economia il sociale e l'ambientale e questa azienda agricola nel suo piccolo li mantiene tutti e tre perché è da da vivere ho visto che socialmente estremamente si spinge a coinvolgere i vicini e quant'altro quindi è da da mangiare a chi è intorno a sé e inoltre è rispettoso dell'ambiente quindi è sostenibile però questo a livello locale e di singola azienda se noi andiamo invece su un discorso globale allora dobbiamo porci alcune domande la prima e la più importante noi siamo 7 miliardi sul pianeta e quindi chiaramente mentre anni fa per dare un ettaro dava da mangiare a 4 persone adesso un ettaro deve dare a mangiare 10 persone per cui bisogna cominciare a riflettere a livello globale ovviamente sul fatto che non possiamo ridurre le produzioni dobbiamo cercare di intensificare le produzioni per dare da mangiare a tutti e quindi dobbiamo muoverci verso un concetto che sta prendendo sempre più piedi di agricoltura intensiva sostenibile e quindi di cercare di massimizzare le produzioni e contemporaneamente salvaguardare l'ambiente questa secondo me è la scommessa per il futuro ovviamente a livello globale poi a livello locale soprattutto in un paese ricco come può essere l'Italia possono esistere anche questi esempi tanto per dare un'idea con qualche numero anch'io mi collego l'Europa importa prodotti alimentari cioè l'Europa ha un export import di prodotti alimentari l'importazione siamo quindi in deficit e importiamo prodotti alimentari che equivalgono a 45 milioni di ettari coltivati al di fuori dell'Europa questo quindi è un aspetto che secondo me dovrebbe farci riflettere in gergo viene chiamato land grabbing quindi affitto di terreno all'estero ma è un concetto molto importante perché se domani chi ci sta dando questi terreni decide di non darceli più noi dobbiamo al nostro interno ritrovare questi 45 milioni di ettari che equivalgono alla superficie della Germania tanto per rimanere sempre collegati con i tedeschi quindi non è un aspetto molto piccolo e questa richiesta di terra negli ultimi 6-7 anni è aumentata di una superficie pari a quella del Portogallo tanto per dare un altro numero quindi chiaramente questo è un problema noi aumentiamo continuamente di numero siamo arrivati a 7 miliardi è prevedibile che nel giro di 10 anni arriviamo a 9 miliardi di abitanti quindi ovviamente sempre maggiore è necessità di produrre cibo e quindi chiaramente quando manca il cibo poi scoppiano le guerre abbiamo visto gli esempi in Nord Africa quindi questo è un problema sul quale bisognerebbe riflettere quando si fanno questi esempi comunque è estremamente interessante perché è molto virtuoso e è assolutamente sostenibile per finire il concetto di sostenibilità non deve essere visto solo come riduzione delle emissioni di energia o riduzione del consumo d'acqua ma deve essere anche visto riduzione dell'inquinamento e riduzione del consumo di terra perché è chiaramente più terra viene consumata per altri scopi che non sono gli agricoli e peggio è quindi noi dovremmo anche riflettere sul fatto che stiamo cementificando terreno fertile intorno alle nostre città terreno in pianura il migliore quello più produttivo per costruire centri commerciali per costruire strade servono veramente questa è un'altra domanda che uno ci potrebbe porre un'altra questione molto problematica quella che sollevava il professor Trevisan oltre al fatto che il land grabbing una delle grandi questioni implicate dalla globalizzazione ci fa domandare ulteriormente chi sono i proprietari di queste immense terre soprattutto negli ex paesi in via di sviluppo e nel terzo mondo che vengono appunto affittate e utilizzate per sfamare noi europei con problemi per le popolazioni locali e naturalmente chissà cosa accadrebbe se questi proprietari decidessero di chiudere letteralmente i urbinetti tante questioni ne aggiungiamo ulteriormente grazie ad Alessandro Rossi e le sue mail curiosità e disincanto sono un po' queste le sensazioni prevalenti delle mail che ci sono giunte fino a questo momento come quella di Gabriele Radaelli da Palazzolo dell'Olio sull'Olio in provincia di Brescia che ci scrive in questo modo ormai è diventato un marchio da porre non solo al cibo si riferisce ovviamente al bio ma anche allo stile di vita un modo di essere insomma la mia impressione è che sia anche un modo per fare business spesso in modo onesto in alcuni casi credo che ci sia più fumo che arrosto nel bio che sia cibo una vacanza o una cura per il benessere del corpo non cerchiamo forse una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni ne sentiamo il bisogno e il mercato che intercetta questa necessità ci inonda di proposte a volte autentiche altre volte meno o mi sbaglio si domanda appunto Gabriele Radelli e per collegarmi a quello che appena detto il professore volevo aggiungere il fatto che la Cina ultimamente sta prendendo in affitto vastissime aree soprattutto in Africa proprio per soddisfare il fabbisogno alimentare crescente che ha e che continuerà a crescere Sui problemi da resto stiamo parlando di questioni assolutamente fondamentali quali quelle del cibo dell'agricoltura Posso parlare di fare un'aggiunta su quello che si stava proprio dicendo in questo momento Noi apprezziamo i nostri ospiti che si autogestiscono e prendono la parola No, nel senso che una vera riflessione va fatta veramente sul consumo di territorio e anche sulle scelte strategiche che alcuni paesi stanno facendo Prima citavamo la Cina la Cina fino a qualche anno fa ha puntato tutto lo sviluppo del suo paese sull'ambito industriale Oggi ha dirottato l'attenzione nell'ambito agricolo è il paese che più di tutti sta acquistando territorio a livello mondiale l'ha acquistato è vero in Africa nelle zone fertili dell'Africa sicuramente non per andare a sfamare le popolazioni africane ma perché ha ragione in una prospettiva futura che in base anche al trend di crescita di numero di cittadini che ci saranno la prima preoccupazione per non avere problemi interni è sicuramente quella di sfamare queste popolazioni e oggi sta acquistando anche nel resto del mondo quindi oltre all'Africa si sta spostando verso il nord Europa e addirittura verso le Americhe quindi per dire che un'attenzione particolare ci dovrebbe essere proprio nei confronti di una diminuzione di consumo di territorio alla quale noi abbiamo assistito negli ultimi anni in modo del tutto non regolare proprio nei nostri territori nella nostra regione un attimino di riflessione va fatta va fatta anche perché non può essere l'unico elemento a sostegno delle amministrazioni comunali il cambio di destinazione d'uso dei terreni quindi da agricolo a farlo diventare commerciale industriale o residenziale ma soprattutto su una logica futura nel momento in cui altri paesi saranno più forti rispetto a noi economicamente quelle superfici che oggi vengono destinate per sfamare le nostre popolazioni andranno dirottate verso altri paesi e a questo punto si aprirà un interrogativo vero su come potremo sfamare i nostri cittadini e le nostre popolazioni già questa del territorio è un altro sottotraccio che percorre questa puntata ed è una questione davvero fondamentale come diceva Prandini si lega tantissimo a un tema che è quello delle risorse di cui hanno bisogno le amministrazioni locali che purtroppo sono state troppo dirette rispetto agli oneri di urbanizzazione ma ripartiremo subito dopo la pausa pubblicitaria dal tema evocato dalla mail del nostro telespettatore ovvero bio e nuovi stili di vita tra pochissimo ben tornati consumi e stili di vita sono due corni della questione due aspetti delle questioni fortemente intrecciati e naturalmente uno degli aspetti che viene immediatamente evocati dalla questione del bio ha a che fare con la salubrità e per questo che sempre più cerchiamo di riorientare i nostri consumi alimentari in questa direzione prima di lanciare l'inchiesta volevo chiamare in causa Baia e domandargli quanto il cibo bio effettivamente garantisce condizioni di salubrità superiori o migliori di quello più tradizionale ma io ritengo che senz'altro il cibo bio è un cibo di qualità ma che in termini comunque di garanzie di salubrità può anche tranquillamente essere comparato quello che è oggi un prodotto ottenuto attraverso le tecniche di coltivazione che tengono conto di quelli che sono i disciplinari in particolare nel nostro settore c'è il disciplinare di coltivazione che fa riferimento alla regione Emilia-Romagna attraverso la produzione integrata otteniamo un prodotto cosiddetto di qualità controllata puoi spiegare il significato di produzione integrata siamo un po' di da scalici ma ci faccio questa cortesia diciamo che sono disciplinari che vanno a limitare molto l'utilizzo di principi attivi quindi assolutamente molto selettivi e che permettono di ottenere un prodotto sano è ovvio che un prodotto ottenuto da agricoltura biologica non sempre può risultare da un punto di vista anche delle caratteristiche organolettiche un prodotto che soddisfa completamente quelli che sono gli standard di un prodotto di qualità un prodotto biologico un prodotto che viene definito naturale e che quindi comunque ha anche su determinate tipologie dei contenuti in termini di muffe dei contenuti in termini di carica batterica che sono anche elevati volevo riallacciarmi a quando prima parlavamo di bio e stili di vita io non penso tanto che sia il bio che va ad ispirare quello che è uno stile di vita al di là dell'esempio che abbiamo visto ma se parliamo di consumo quindi di consumatori secondo me negli ultimi anni è maturata molto la consapevolezza al momento dell'acquisto di andare comunque a scegliere anche quei prodotti che al di là che siano biologici o meno possano dare quello che è un contributo salutistico con il proprio consumo e quindi ritengo che questa tendenza è una tendenza che è in crescita tant'è che la ricerca verso quegli alimenti che possano avere delle proprietà nutraceutiche sta incrementando anche se ovviamente bisogna fare i conti poi con quello che è il potere di acquisto del consumatore e che obiettivamente negli ultimi periodi senza altro sta condizionando quello che è la scelta in termini di consumo grazie e ora vediamo nell'ultima parte dell'inchiesta curata per noi da Dario Murri quanto la ricerca di un nuovo stile di vita incide negli acquisti di cibo bio fare più attenzione al cibo biologico o a quello a chilometri zero o preferire fra i prodotti che usiamo quotidianamente quelli con un minore impatto sull'ambiente scelte in alcuni casi legate al benessere fisico in altri al risparmio ma che possono anche diventare uno stile di vita abbiamo voluto parlarne con chi è andato oltre facendo di questo stile di vita anche il proprio lavoro tutta questa avventura è iniziata quando io avevo un bambino piccolo e mi rendevo conto che quello che sapendo che la pelle è un grande organo che abbiamo quello che gli spalmavo entrava in circolo molto in fretta che le verdurine che avrei macinato per fargli la pappa dal momento che prendevo il tempo di fargli il brodo e non compravo già tutto confezionato entrava in circolo nutriva i suoi organi i suoi piccoli organi che sarebbero diventati grandi stavo preparando la sua stanza mi rendevo conto che anche il colore e il nutrimento sono stati fatti degli esperimenti straordinari metti un cieco in una stanza blu e un cieco in una stanza rossa cambia il battito cardiaco per cui ho iniziato a ragionare sui colori ma anche sulle qualità dei materiali ho iniziato a capire quanto delle colle piuttosto che dei 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 tessuti sintetici possono avere un tipo di influenza o un altro e di lì poi è partito tutto a macchia d'olio un approccio nato da un mix di necessità sensibilità e voglia di conoscere è partito proprio dal cibo con la scelta di quello biologico un pollo intensivo non ha nulla più dell'animale è un oggetto da vendere un pollo che è cresciuto in un allevamento biologico è cresciuto come un animale e nella catena alimentare a un certo punto consegna regala la sua vita alla nostra vita alla fine mangiare in un certo modo è un passaggio di una di uno stile di vita allargato dove semplicemente sei in armonia con la vita e lo sei in ogni aspetto del tuo quotidiano un approccio che ti porta a fare scoperte sempre nuove e a volerle condividere con gli altri a quel punto è diventata un'avventura straordinaria ho iniziato a capire che la nostra impronta ecologica e quello che la comunità scientifica da 40 anni denuncia avevano un divario immenso allora nel mio piccolo ho iniziato a sperimentare e a capire che di fatto è molto più piacevole essere leggeri e in seguito le mie piacevoli scoperte ho cercato di diffonderle e tuttora cerco di diffonderle anche agli altri di condividere ma come si fa a essere più ecoattenti nella pratica viene naturale ci pensi ormai è diventata parte di te no è assolutamente naturalissimo la prima soglia di attenzione l'ho avuta verso i consumi idrici ho iniziato a contare e quanta acqua viene speccata quando si lascia il rubinetto aperto poi ho iniziato a fare molta attenzione ai consumi energetici compro poche cose nuove di qualità uso tantissime cose vecchie ho sempre addosso delle cose che hanno molti anni ma che semplicemente aggiorno con qualche cosa un oggetto anche piccolo mi muovo con i mezzi pubblici facciamo il carpooling per portare il più piccolo a scuola perché non va nella zona ma viaggiamo con un'altra famiglia ormai da 12 anni compro attraverso un gruppo di acquisto solidale cerco di man mano che scelgo anche di imparare qualche cosa di nuovo ed è una splendida avventura perché c'è l'universo da imparare ancora da ecoattenti però non c'è il rischio di diventare ecofissati non è questione di essere ecofissati è di sentirsi parte di una vita allargata che è quella del nostro pianeta semplicemente si è capito che questo modello di crescita infinita su un pianeta finito non può più stare in piedi dunque più attenzione alla salute all'ambiente e possibilmente anche al portafoglio comunque conciliare si può ma assolutamente ma certo assolutamente ognuno fa quello che può inizia da dove può e poi se continua se persevera e se il tutto nasce dal cuore non è una sorta di obbligo che si dà perché abbiamo già abbastanza obblighi scopre un altro modo di vivere che è straordinario e riesce a spendere alla lunga meno e a spendere meglio Professor Trevisan se non vivessimo in una situazione di crisi economica a suo giudizio il bio e questo tipo di consumo attento alla dimensione anche dell'equità equo e solidale si allargherebbe o forse ritorneremo ad essere più spendaccioni più consumeristici è una bella domanda questa non saprei cosa rispondere esattamente personalmente ritengo che l'importante è essere molto attenti a comprare prodotti che siano stati coltivati in modo corretto e quindi avere una certa garanzia su chi ha prodotto quello che si va a mangiare e seconda cosa bisogna stare attenti come diceva l'intervistata ai consumi di acqua e di energia noi abbiamo recentemente per questo sviluppato anche sulla base di un esperimento che è stato fatto in Francia recentemente un'etichetta di tipo ambientale che dovrebbe dare un'idea al consumatore di quali sono i consumi di energia i consumi di acqua e l'inquinamento e quindi i consumi ambientali un'etichetta di tipo multicriteria è basata su 18 fondamentalmente indicatori e sono stati raggruppati poi appunto sul settore acqua suolo ed aria per la qualità dell'aria quindi cambiamento climatico emissioni di CO2 o buco dell'ozono e quant'altro questa idea ci è venuta vedendo quello che hanno fatto i francesi i francesi hanno lanciato una legge nel 2010 che al momento è su base volontaria ci sono circa 200 produttori che hanno aderito ma potrebbe diventare una legge dello Stato per cui si è obbligati a mettere sull'etichetta di qualunque bene non solo prodotti agricoli ma anche beni di largo consumo una idea di quello che è stato l'impatto nella produzione per cui sono assolutamente d'accordo se è possibile cercare di stare attenti a questi parametri è estremamente importante io personalmente sono dell'idea che il consumo più importante è quello della terra e secondo me questo è l'aspetto più importante che è stato sottovalutato in Italia quindi quello del consumo di territorio e del degrado del territorio ovvero sia l'abbandono di territorio soprattutto nelle zone di montagna io abito in provincia di Parma e nella zona montana sono zone intere che sono praticamente deserte ci sono frane alluvioni che sono create dall'abbandono del nostro territorio quindi secondo me bisognerebbe ritornare in questa direzione incentivando gli agricoltori che sono non dobbiamo dimenticarcelo i paladini del territorio quindi senza agricoltura il territorio non è come quello che noi vediamo sarebbe probabilmente una savana o una boscaglia un presidio sguarnito esatto un presidio sguarnito e quindi è fondamentale incentivare questo tipo di agricoltura di presidio penso che la comunità europea si sia accorta di aver sbagliato negli ultimi vent'anni le politiche agricole cerchi di incentivare questo tipo di agricoltura però questo secondo me è la nostra scommessa ovviamente sempre nei limiti della disponibilità come dicevano intervistate che è molto importante ovviamente poi le disponibilità economiche sono limitate in questo periodo e quindi uno deve cercare di fare quello che può però un occhio al consumo di terra e alla qualità e quindi le emissioni di CO2 soprattutto è estremamente importante io sull'acqua sono un pochettino più scettico come diceva precedentemente Prandini in realtà l'agricoltura consuma dell'acqua ma non la consuma perché la quantità di acqua sul pianeta è finita non è che si può diminuire o aumentare sempre la stessa eventualmente può essere riutilizzato o disponibile in minore o in maggiore quantità però non è che venga consumata quindi quando si parla di consumo d'acqua rimango un po' scettico di utilizzo dell'acqua magari in modo non corretto e soprattutto di utilizzo dell'acqua inquinandola con trattamenti che non sono molto idonei questi sono secondo me i punti i punti decisivi i criteri decisivi Bonaccini a proposito della salubrità ha visto Cristina Gabetti sul cibo bio non transige per l'appunto lo ritiene una fonte di migliore vita di armonia diceva con la vita in tutti i tipi di consumi quindi dal cibo al colore ai famosi cromatismi della stanza del suo piccolo sì è un altro esempio molto virtuoso questa volta visto dalla parte del consumatore però dato per assodato che le cose che sono state dette e dichiarate che abbiamo assistito sono senz'altro molto interessanti anche queste proiettate in una visione un po' particolare la domanda che è così bisognerebbe porsi è quanti si possono permettere una visione di questo di questo tipo di stili di vita cioè nel senso che oggi c'è una crisi economica è nato che è piuttosto sostanziale insomma e il bio costa di più e i consumi bio costano di più appunto io porrei l'accento invece sul rovescio della medaglia e cioè parliamo dei prodotti dell'agricoltura tradizionale che sono comunque rigorosamente controllati dalle strutture pubbliche dalle strutture sanitarie prima di essere messi in commercio hanno tutta una serie devono rispondere a una serie di requisiti anche l'utilizzo dei prodotti dei fitofarmaci dei pesticidi sono iscritti ad una serie di prodotti dal Ministero della Salute per i quali è prevista l'autorizzazione l'utilizzo la licenza insomma quindi ci sono degli aspetti positivi e sono state delle conquiste importanti queste che si sono verificate a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri questo ha consentito di alimentare meglio la popolazione di aumentare il livello della nutrizione di allungare la vita media molti di questi aspetti derivano dal miglioramento dell'agricoltura tradizionale quindi e queste sono delle cose che devono essere conosciute ancora dal grande pubblico nel senso che ci sono degli aspetti molto positivi legati all'alimentazione di tipo tradizionale particolarmente quella legata ai prodotti tipici del territorio se poi consideriamo anche quello che è emerso nel dibattito precedente cioè dell'aumento della popolazione mondiale dell'aumento della richiesta di cibo della diminuzione della terra sono valori importanti questi che devono essere tenuti in grande considerazione quindi la tradizione positiva è il ritorno per l'appunto ad un cibo che in realtà ci dice Bonacini con gli adeguati controlli pubblici nel nostro paese il nostro paese da questo punto di vista non ha nulla da invidiare anzi da insegnare agli altri paesi europei produce un prodotto e un cibo comunque salubre il pubblico questa sera è particolarmente sollecitato dai temi affrontati come è giusto che sia dimostrazione di quanto il bio sia entrato nei nostri consumi nei nostri stili di vita vero Giorgia? Sì Massimiliano un'altra domanda di Marina passiamo dal camut al latte di soia dunque stili di vita che cambiano anche per necessità aumento delle intolleranze in tanti da bambini per cui di prima necessità si passa a bere latte bevanda di soia bevanda di riso IVA al 20% mentre il latte vaccino 4% tempi di crisi non mi sembra corretto un po' una penalizzazione per una minoranza in aumento cosa ne pensate? Allora invito la regia a inquadrare nuovamente la nostra grafica essere bio come la puntata di questa serie i nostri ospiti ci stanno raccontando e anche necessariamente una questione di potere d'acquisto oltre che di stili di vita Prandini questa cosa dell'IVA effettivamente è un problema Beh non è un problema diciamo così un'attenzione che è stata data su un bene che è appunto il latte ma come sono anche altre tipologie di prodotti in ambito agricolo proprio in un segnale di attenzione nei confronti del consumatore basti ricordare che non solo per l'agricoltura tradizionale ma anche per quella biologica questa possibilità ha fatto sì che i prezzi negli ultimi 20 anni non siano mai cambiati cioè il prezzo riconosciuto all'azienda agricola non è mai stato modificato con un beneficio importante anche per i consumatori ma forse chi ci sta ci sta di mezzo nella filiera è quello che realmente ha guadagnato però detto questo perché nel latte di soia non viene applicata l'IVA al 4% ma semplicemente quando dicevo probabilmente devo questo chiaro perché semplicemente non è un latte è una bevanda e spesso e volentieri con le intolleranze si cerca di spostare quello che è l'abitudine di consumo mascherata proprio nell'intolleranza dai dati che noi abbiamo assolutamente è vero un decimo dell'intolleranza che vengono fatte passare come tali ai consumatori ma che in realtà non provengono ad esempio dall'utilizzo del latte vaccino o del latte in polvere per quanto riguarda l'alimentazione in particolar modo dei neonati e dei bambini quindi in realtà il problema dove sta da questo punto di vista è un problema di spostamento di consumi diceva lei è una questione di interesse economico chiaramente è l'azione maggiore che fanno i produttori o meglio le ditte di commercializzazione di alcune tipologie di prodotti nel settore medico farmaceutico la maggior parte degli investimenti sta nel sostenere i nuovi prodotti che vengono lanciati sul mercato questo fa capire quanto interesse economico ci sia nello spostare un prodotto dal latte vaccino a un latte a un prodotto completamente diverso che solo viene chiamato latte ma che con latte nulla ha a che fare sono le famose spese di promozione quindi in realtà il termine latte è scorretto in questo caso io ritengo assolutamente di sì perché il latte è il latte nel momento in cui parliamo di latte vaccino altre tipologie di latte non esistono dopodiché le possiamo chiamare come vogliamo ma non è latte continuiamo a discuterne subito dopo la pausa pubblicitaria e probabilmente ci saranno anche prodotti farmaceutici tra pochissimo bentornati dicevamo che tra mail che ci inviano i telespettatori e le domande del pubblico si stanno accumulando tante questioni quindi io immediatamente restituisco la parola a Giorgia per altre domande facciamo il punto sulle certificazioni di questi prodotti bio con la domanda di Massimiliano buonasera volevo fare una domanda per quanto riguarda le certificazioni dei prodotti che sono sinonimo di qualità alla fine però queste certificazioni rischiano di schiacciare il piccolo produttore quindi ridursi ad un business perché vanno anche mantenute vai ha sentito questa domanda sì lei cosa ci risponde e soprattutto cosa risponde al nostro partecipante ma senz'altro le certificazioni rappresentano un costo e in diversi casi sono anche un business però le certificazioni sono necessarie per poter attestare determinati requisiti attraverso un ente terzo quindi indipendente ritengo che in Italia comunque ci sia un sistema di controllo su quelli che sono i prodotti alimentari molto rigido molto valido e come dicevate in precedenza non dobbiamo in questo senso prendere assolutamente lezioni da nessuno vorrei evidenziare come l'Italia sia uno dei paesi in cui si verificano meno scandali alimentari e questo insomma penso che sia un sinonimo che da questo punto di vista in Italia le cose funzionano il tema delle frodi alimentari delle contraffazioni prendini quindi le certificazioni sono anche un'argine rispetto alle contraffazioni assolutamente soprattutto per quanto riguarda il mercato interno i prodotti agroalimentari italiani sono una certezza per il consumatore purtroppo però cosa avviene che spesso e volentieri grazie proprio alla qualità dei nostri prodotti e quello che ci viene riconosciuto non solo sul territorio nazionale ma anche a livello internazionale è nato il principio della falsificazione del prodotto agroalimentare italiano o meglio viene venduto per prodotto italiano ciò che con l'agricoltura italiana nulla ha a che fare sono contraffazioni che nascono dall'Italia o da altri paesi no spesso e volentieri da altri paesi e addirittura vengono poi commercializzate anche all'interno del nostro paese basti pensare che su quattro prodotti che vengono venduti come italiani uno solo di questi realmente italiani e tre sono contraffatti questo fa capire il volume d'affari e il business che si è creato sulla Made in Italy Giorgia mi permetto anche una considerazione in realtà da consumatrice il prodotto bio spesso non è così bello esteticamente ma secondo voi secondo le ultime tendenze la gente il consumatore preferisce acquistare il prodotto bello o il prodotto effettivamente di qualità anche se poi non figura così tanto tra gli scaffali del supermercato professor Travis cosa ne direbbe direi che secondo me l'aspetto gioca il suo ruolo perché nella scelta di un prodotto alimentare di un cibo noi ci basiamo innanzitutto sulla vista poi sugli altri sensi però chiaramente se il prodotto non rispecchia certi parametri probabilmente la nostra scelta non è direzionata verso questo prodotto fra l'altro spesso se il prodotto non è di bel aspetto potrebbe anche includere insidie di tipo fungino microbiologico come ha stato detto in precedenza per cui anche un prodotto bio dovrebbe essere non di bellissimo aspetto quindi non magari lucente o colorato ma sicuramente senza imperfezioni almeno visibili all'occhio questo secondo me è un aspetto da non sottovalutare perché non bisogna mangiare della roba che magari è con un attacco fungino e quindi può dare problemi di tossicità da micotossine eccetera Bonancini lei come commenta? E' d'accordo con il professor Targisan? Commento che spesso ne discuto con mia moglie di questa cosa lei è più attirata dagli aspetti estetici io guardo più alla sostanza nel senso al di là cioè mele prodotti normali mele che però sono molto grosse fuori misura eccetera che non rientrano in un certo standard ma della stessa qualità sono penalizzate sul mercato perché l'occhio vuole la sua parte oppure pomodoro lucido oppure cose di questo genere però io dico che occorre avere un po' di sensibilità e di discrezione insomma così come allo stesso modo come diceva la signorina insomma è bio non sempre è bello non sempre è buono cioè voglio dire bisogna stare attenti perché tante volte i livelli di tossine possono essere più elevati nel prodotto biologico rispetto ad un prodotto tradizionale curato con cura con della chimica con raziocinio eccetera quindi attenzione anche alla controparte in buona sostanza questo è un tipico caso di scuola di quello che gli psicologi di quella che gli psicologi chiamano la dissonanza cognitiva per cui il consumatore entra in confusione pensando magari che il prodotto che non si presenta bene sia meglio perché più genuino più sano più autentico rispetto invece alle sue potenziali qualità quindi fare molta attenzione come ci dicono i nostri ospiti Vaia come si presenta il pomodoro del Casalasco dal punto di vista dell'aspetto esterno è ovvio che in questo caso sono un po' di parte quindi le direi il miglior pomodoro è proprio per questo che l'abbiamo chiamato in causa io penso che senz'altro nella nostra zona abbiamo un'agricoltura che è all'avanguardia sia per quanto riguarda la qualità ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza verso i consumatori quindi penso che i temi che abbiamo affrontato oggi quindi a partire dal chilometro zero è ovvio che il nostro approvvigionamento è un approvvigionamento molto veloce in quanto le aziende agricole sono tutte nelle aree limitrofe e quindi garantiscono anche un conferimento di prodotto che ha una certa qualità il prodotto non viaggia 300-400 chilometri su un camion inoltre le nostre aziende agricole sono aziende agricole che hanno portato termine determinati percorsi di certificazione come il Global Gap che vanno a identificare quelle che sono delle tecniche dei modi di coltivare che tengono conto anche di quello che è un discorso di impatto ambientale la garanzia la garanzia poi di quella che è la completa tracciabilità lungo la filiera noi vogliamo che il consumatore che sceglie il nostro prodotto possa risalire e identificare quello che è il produttore quindi secondo me il concetto che l'agricoltore ci mette la faccia è senz'altro una garanzia importante è ovvio che poi c'è l'aspetto quello che avevo accennato prima salutistico dei prodotti e proprio anche in questo senso noi nell'ultimo anno attraverso una sperimentazione che è durata comunque diversi anni siamo riusciti anche a mettere a punto dei prodotti che vanno incontro a quelle che sono queste esigenze esigenze particolari metterci la faccia è la forma suprema di tracciabilità potremmo dire Alessandro sono arrivate altre mail vuol dire che questa sera chi ci ha scritto sembra essere perfettamente in sintonia con quanto hanno dichiarato i nostri ospiti come Giulia Viarengo da Asti che sul tema appunto del bio scrive così personalmente non ho nulla contro i prodotti biologici ma questi prodotti costano più di quelli normali ed in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo non sono molti quelli che possono permettersi di spendere certe cifre penso che come sempre il giusto sia nel mezzo non bisogna farne un feticio ma nemmeno demonizzarli bio e non bio sono complementari fra loro nella consapevolezza che i prodotti bio resteranno comunque una nicchia Brandini anche lei per questa giusta via nel mezzo per questa terza via potremmo dire sì assolutamente io penso che il prodotto biologico sia un prodotto come dicevamo all'inizio della trasmissione in forte crescita che ha una parte nei consumatori che presta particolare attenzione al consumo di prodotti biologici e questo va comunque lodato e va bene nello stesso tempo non bisogna demonizzare l'agricoltura tradizionale se mi permette io sotto questo punto di vista aprirei una piccola parentesi per quanto riguarda e ritorno su un argomento che avevamo già citato inizialmente per quanto riguarda invece l'importazione di prodotti agroalimentari se noi prendiamo il settore della carne questo per fare un piccolo esempio in Italia in modo particolare ci sono delle attenzioni per quanto riguarda come gli animali vengono alimentati che tipo di medicinali vengono utilizzati negli animali nel caso in cui ne avessero bisogno ovviamente giustamente per quanto riguarda col diretti è assolutamente vietato l'utilizzo di estrogeni o anabolizzanti nello stesso tempo però cosa succede? quindi la carne italiana dei coltivatori col diretti è priva di queste sostanze perché tutti noi ci domandiamo come un pollo o come una vacca possano come dire così rapidamente crescere e diventare forti o muscolosi quantomeno non solo di col diretti di tutto il mondo agricolo mi permetto di dire però è assolutamente così non solo vengono anche quello che dicevo sull'alimentazione i nostri animali utilizzano solo materie prime cosa avviene nel resto d'Europa? nel resto d'Europa non c'è l'obbligo dell'utilizzo delle materie prime quindi vengono utilizzati anche sottoprodotti se andiamo fuori dalla comunità economica europea addirittura quella carne che spesso e volentieri viene citata ad esempio per la sua genuinità perché ci fanno vedere distese di pascoli verdi o per la sua morbidezza parlo dell'Argentina del Brasile degli Stati Uniti spesso e volentieri questa carne invece è ricca di estrogeni anabolizzanti ma poi lo vediamo di riflesso quindi la celebra carne argentina o la carne irlandese che viene ricercata nei ristoranti è piena di anabolizzanti secondo me ma non solo secondo me anche per i dati di cui siamo in possesso la carne italiana in termini qualitativi è sicuramente migliore rispetto a quella che c'è nel resto del mondo detto questo l'esempio lo vediamo anche poi sulla vita di tutti i giorni dei consumatori e dei cittadini se prendiamo i consumatori statunitensi hanno dei grossi problemi per quanto riguarda l'obesità delle persone e questo deriva proprio dal tipo di alimentazione spesso e volentieri legata anche all'utilizzo di prodotti nel momento in cui gli animali vengono cresciuti che poi vengono trasmessi ovviamente al consumatore noi al Bene Comune siamo dei sostenitori delle virtù difetti naturalmente ci sono ma anche virtù del processo di globalizzazione dal quale non si torna indietro ma in questo caso ci sentiamo nuovamente di associarci all'invito e agli auspici di tutti i nostri ospiti di questa sera sul fatto di consumare italiano dal punto di vista dell'agroalimentare e dal punto di vista gastronomico e culinario perché questa è una scelta non solo di qualità dal punto di vista del gusto ma anche soprattutto dal punto di vista della tenuta e della coerenza organolettica io ringrazio tantissimo una puntata un po' diciamo diversa dalla consuetudine del Bene Comune quindi moltissime grazie ai nostri ospiti al professor Marco Trevisan a Costantino Baia che è in collegamento a Ettore Prandini e a ad Alessandro Rossi ad Alessandro Casale il nostro autore a Giorgio Cipelli che ci ha parlato anche in qualità di consumatrice e come dire il ritorno alla realtà dal mondo della televisione è sempre indispensabile quindi una puntata di servizio in qualche modo sulla quale ci congediamo invitandovi a continuare a guardare i programmi di Studio 1 e invitandovi a ritornare all'appuntamento con noi lunedì prossimo quando torneremo a parlare di un tema consueto cioè di politica nuovamente e in particolare di cosa sta accadendo nel sistema politico italiano sotto l'onda di questo fenomeno nuovissimo e che sta centrifugando i partiti che è il montismo all'unidì prossimo e buon proseguimento su Studio 1 e buon proseguimento e buon proseguimento